Sì, Rina da Rinalra, volo dirvi soltanto che praticamente non farò più i video dal sabato alla domenica, ma li farò il lunedì e il venerdì, praticamente usciranno sempre verso quest'orario, verso le tre del pomeriggio, due e mezza a tre, e niente, ho cambiato perché praticamente tramite i miei impegni il lunedì e il venerdì sono le giornate un po' più tranquille, quindi per questo, e niente, lunedì vi caricherò il vlog, volevo dirvi, di Capodanno, perché lo so praticamente finendo di montare, quindi, perché sono parecchie clip che comunque devo collegare, quindi per questo mi sta facendo perdere un po' di tempo, e nel resto niente, cioè, spero che continuate a seguirmi, io vi ringrazio tantissimo, e niente, a questo è l'info box, vi lascio tutti i link dove potete trovarmi, ovvero Facebook, Instagram, la mia mail, e niente, vi ricordo di nuovo che i nuovi due video settimanali saranno il lunedì e il venerdì, e se vedete il video di Capodanno, ovvero che uscirà lunedì, capirete un po' perché starò facendo questi giorni, invece che sabato e domenica, e scoprirete anche delle cose che vi dico, quindi, sarebbe molto interessante, specialmente per chi mi guarda, chi mi segue, che lo guardasse lunedì, quando uscirà, sempre verso questo orario, e niente, vi mando un grandissimo bacio, e ci vediamo al prossimo video, ciao!